Buongiorno a tutti e ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV. Siete sul canale 17 come sempre di Fano TV appunto per seguire la rassegna stampa che ogni mattina alle 7.30 va in onda in diretta, poi in replica fino alle 8.30 a rullo e subito dopo la messa delle 8.30 ancora un'edizione quindi alle 9.10 e poi l'ultima alle 13.30. Ben ritrovati allora, cominciamo questa nuova settimana, un'altra settimana di caldo, caldo intenso, lo vedremo tra pochissimo con le previsioni del tempo, vediamo adesso prima il santo, il santo di oggi è San Celestino I Papa, il sole è sorto alle 5.49 e tramonterà alle 20.40. Allora dicevamo del tempo, chiudiamo questi simpaticissimi avvisi che ormai compaiono in tutti i siti dei Cuchi, va beh, allora ondata di caldo da martedì al centro-sud quindi ci stiamo dentro alla grande, domenica qualche temporale ma prevale il sole. Nuova settimana dunque, nuova settimana, nord Italia lambito da alcune perturbazioni ma come vedete torna il caldo, il gran caldo anzi africano e l'Italia è questa che vedete qua sotto rappresentata con tutti i simboli che ci indicano un'altra giornata, quella di oggi, con cielo sereno su tutta la costa adriatica, in particolare quella marchigiana che ci interessa. Questo sono le ore 12, poi le ore 18 e quindi vedete oggi sarà una giornata assolutamente di tempo soleggiato e stabile. Anche domani, guardate, domani il tempo sarà sempre bello e sereno, dunque temperature sicuramente elevate. Queste sono le previsioni della protezione civile delle marche per oggi e per la giornata di domani. Ancora tempo soleggiato per tutta questa settimana con lieve instabilità soltanto nell'entroterra, lungo il crinale Appennini. Le temperature dovrebbero subire un lieve calo ma a partire da mercoledì, da metà settimana. Questa dunque è la situazione, guardiamo anche al volo la temperatura alle 7.30, siamo già a 26 gradi, siamo già a 26 gradi e dunque per oggi attendiamoci ancora temperatura intorno ai 32-33 gradi, insomma, durante le ore centrali del pomeriggio. I giornali, i giornali questa mattina si occupano naturalmente ancora del caso del delitto di Sant'Angelo Invado, la morte di Ismaele. In particolare questa mattina ci si concentra su Ambera o Ambra per gli italiani perché pare che sia partita insieme ai genitori forse per la Macedonia. Poi si parla della tragedia in Australia che ha colpito due sorelle, Gloria e Giorgia. Una di queste purtroppo è morta, l'altra dovrà subire un intervento. E poi altre notizie che tra un istante inizieremo a leggere dai quotidiani Carlino Corriere e Messaggero. Cominciamo dal resto del Carlino. Allora, dicevamo di Ambera, famiglia via da Lunano. Lunano è un paesino che sta vicino nell'entroterra, quasi al confine, insomma, comunque sta vicino a Sant'Angelo Invado dove appunto abitava Ismaele. Avrebbero deciso di trasferirsi altrove. Mancano infatti da venerdì sera. Il padre addirittura si sarebbe già licenziato dalla ditta per la quale lavorava. Ufficialmente sarebbero in vacanza, pesano però le minacce su Facebook. C'è un dettaglio in questo articolo di Alessandro Mazzanti e del resto del Carlino. Chi poi acquisterà il giornale potrà leggere tutti i particolari, ma certamente fa salire un po' la rabbia, dico la verità, pur cercando di rimanere sempre freddi di fronte a queste situazioni. Per lo meno quando si fa anche un mestiere come questo dove si cerca di raccontare i fatti e non soltanto o non le emozioni, cercando di dividere almeno le due cose. Igli, che materialmente è riconfesso, quindi possiamo dirlo, materialmente ha ucciso Ismaele. Igli chiede a questa sua fidanzata, Ambera, di mandare un sms a Ismaele circa le due del pomeriggio di domenica e il messaggino invita Ismaele ad un appuntamento alla fermata del bus Sant'Angelo. Ora, se è vero che Ismaele avesse una cotta, diciamo così, per questa Ambra, immaginate voi ricevere un messaggino dove questa ragazza ti invita ad un appuntamento alla fermata dell'autobus, Ismaele ovviamente ci va e quindi si presenta alla fermata dell'autobus. Alla fermata dell'autobus però non c'è Ambra, ma troverà Igli e Mario, i quali lo invitano a salire sulla macchina e ad andare a chiarire un po' di cose. E qui partono per San Martino, quella famosa località, è più sconosciuta fino a qualche giorno fa, dove c'è quella chiesetta e dove c'è quella purtroppo croce che, come abbiamo visto, è stato teatro di un orribile delitto. Bene, quindi Ambra invia questo messaggio e fa da intermediario. Perché Igli chiede alla sua fidanzata di mandare questo messaggio? Perché se l'avesse mandato lui, lui aveva paura che Ismaele non si sarebbe presentato. Se l'avesse fatto dal suo telefonino, aveva paura che Ismaele avrebbe rifiutato questo incontro che, sì, potrebbero dire, gli avvocati dicono, doveva essere un incontro chiarificatore. Mettiamola così. E quindi stiamo girando intorno alla premeditazione. Vedete come siamo lì, borderline, un po' e un po'. Bisognerà vedere. Ismaele dunque quindi ci va. Ma c'è un'altra cosa sulla quale, e poi c'è tutto l'articolo, ovviamente interessante, ripeto, che potete leggere, ma c'è un altro articolo a proposito del coinvolgimento di questa ragazza, di questa ambera. Ovviamente noi non abbiamo gli elementi per poter fare o dire o giudicare, eccetera. Però ricorderete che Igli aveva detto, subito dopo l'omicidio, aveva detto agli inquirenti che aveva avvisato, aveva chiamato Ambra al telefono per dirle quello che aveva fatto. La domanda è, perché Ambra non ha avvisato subito, immediatamente, i carabinieri? Favoreggiamento? Non lo so. Forse è presto per dire che anche questa ragazza è coinvolta in questa situazione. Sicuramente verrà ascoltata la difesa di Igli, chiamerà a testimoniare anche lei, però così come ovviamente verrà sentita poi per altre cose, vedremo. Questa situazione non è ancora del tutto chiara, non è ancora del tutto chiaro il ruolo di questa ragazza. E a Sant'Angelo Invado oggi, questa mattina, si riunisce il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza guidato dal prefetto Pizzi. Qui in sotto invece nella fotografia il sindaco di Sant'Angelo Invado, Gian Alberto Luzzi, che dice ho fatto preparare una statistica sugli stranieri e dice ancora non serve allarmarsi, ma non si può semplificare questa situazione. Ho delle richieste, comunque dice il sindaco di Sant'Angelo Invado, ho delle richieste da mettere sul tavolo. Ho fortemente voluto e fatto preparare una statistica sulla presenza degli stranieri nel mio comune, perché non si può parlare solo in astratto, è bene calarsi nel problema con dati e numeri reali. Tra l'altro là, se non ricordo male, c'è anche una forte presenza di cinesi, non so se poi negli ultimi mesi è cambiato qualcosa. Cambiamo pagina e purtroppo cambiamo tragedia, perché andiamo in Australia adesso, dove, come dicevo all'inizio di questa rassegna stampa, si prega, si piange e si spera per queste ragazze. Per Giorgia adesso si profila un intervento alle vertebre, i genitori arriveranno in Australia soltanto nella giornata di domani. Gloria purtroppo non ce l'ha fatta, è deceduta. Gloria è questa ragazza a sinistra. La sorella Giorgia è invece ricoverata in ospedale, adesso dovrebbe subire un intervento chirurgico. Dice lo zio, ha delle lesioni alla colonna vertebrale, ma fortunatamente non al midollo, è fuori pericolo, ma siamo in ansia per lei. E questa è dunque la notizia, è successo purtroppo questa tragedia a causa di un incidente stradale, nessuna delle due era alla guida dell'auto, erano trasportate, quindi adesso, è un po' presto, ma insomma adesso bisognerà capire anche un po' di chi sono le responsabilità, anche se in questo momento, quando accadono queste tragedie, quello che conta è cercare di riportare a casa tutti quanti e soprattutto sperare che guarisca al più presto la ragazza, in questo caso la sorella della vittima. Opportunità o problema? Cambiamo pagina e cambiamo decisamente argomento, perché a Marotta si discute del progetto dell'outlet, questo grandissimo centro commerciale che apre tanti interrogativi. Interviene l'ex assessore Olivieri, dice un intervento devastante dal punto di vista ambientale e i posti di lavoro saranno precari. Quindi ci si domanda adesso se quest'outlet, quest'outlet a Marotta, è un'opportunità d'accogliere oppure un problema da evitare. È un interrogativo che pone, appunto, Olivieri, ex consigliere provinciale ed ex assessore del Comune di Mondolfo. Ora, io, è vero che i politici sanno tutto, si occupano di tutto, sono quelli che esperti in tutto, quindi sanno già, poi spesso non ci azzeccano mai, quindi dicono stupidaggini. Adesso non mi riferisco a questa situazione in particolare, però, cioè, piuttosto che sparare così, cioè, bisognerebbe fare uno studio, cercare di farlo perlomeno in maniera seria, con gli studi costano, lo so, però, ecco, è bene fare una cosa, perché altrimenti se il primo che si sveglia va sul giornale e dice la sua, qui non usciremo mai, si va e si gioca alla lotteria Italia. Quindi dire che è un intervento devastante dal punto di vista ambientale e i posti di lavoro saranno precari, boh, non lo so, lascia un po' il tempo che trova, insomma. Anche io, qui adesso in televisione, dico no, invece il contrario. Secondo me no, non è così, perché, boh, perché mi piace l'outlet e quindi, non lo so, mi sembra un po' tutti questi che si svegliano la mattina e dicono quello che pensano senza avere uno straccio di studio, di piano di fattibilità, cioè le cose si fanno ma si devono fare con la testa, quindi con tutta una serie di elementi, bisogna coinvolgere tanti enti, tante società che servono appunto e che fanno questi studi per capire se in quel tessuto sociale, se in quell'area geografica può andar bene un outlet di quelle dimensioni e tutta una serie di studi, ma non un politico che, non lo so. Allora, scatta una marcia di protesta, qui siamo a Fano invece, i commercianti contro la giunta fanese dopo il blackout di sabato. Sabato c'è stato, sabato sera un blackout, è andata via la corrente, è tardi, è andata via la corrente, in piazza 20 settembre è piombato il buio, lo vedete in questa fotografia, cioè l'illuminazione pubblica ovviamente, perché poi vedete le abitazioni private e anche i locali, invece la luce ce l'avevano. Mi risola che un commerciante, ma è anche un politico, si sfoga e dice abbandonate a noi stessi, vive il commercio e vive il turismo, fate ridere. Blackout dunque in centro storico, scoppia la polemica, cala la notte in piazza 20 settembre, via San Francesco e via Nolfi, è piombato il buio e molti cittadini hanno postato foto e critiche in rete. Alleggeriamo un po' la situazione, allora andiamo qua, guardate questa micina, questa gattina, è stata smarrita giovedì 11 giugno nelle vicinanze di Urbino, nella frazione di Ischieti e grigia con righe arancione e nere, se qualcuno l'avesse trovata o vista da qualche parte può chiamare il numero che c'è pubblicato sul giornale di questa mattina. Poi l'ancora cronaca dal resto del carino, fuga e inseguimento a Candelara, la coppia di presunti ladri alla fine fa perdere le tracce nei campi, residente nota un'auto sospetta e chiama i carabinieri. L'auto, una Opel Meriva, non risulta rubata e non aveva dentro arnesi da scasso, dunque che cosa nascondeva? Domanda? Non lo sappiamo. Monteno, andiamo di qua, sempre sul Carlino, la Confcommercio chiede di rinviare il piano regolatore light, un piano regolatore leggero, Varotti del Confcommercio dice non siamo stati coinvolti, se favorisce la grande distribuzione reagiremo. Da Pesaro, sul Corriere Adriatico, caldo e mare mosso, 5 salvataggi, un ragazzino rischia di finire contro gli scogli, soccorsi 4 anziani per malori e attacchi di panico. Alle 9 di mattina sono scattati due allarmi, contemporaneamente in altrettanti stabilimenti balneari. Giorgia venerdì sarà operata, ma avrà accanto ai suoi genitori, il papà e la mamma sono partiti ieri da Roma, un viaggio per andare in Australia di 30 ore. Sul web tantissimi messaggi che ricordano Gloria, la sorella deceduta, nell'incidente appunto in Australia. In bici contro un muro ferito un ciclista amatoriale a Borgo Massano, invece un capanno finisce in fiamme. La bandiera blu adesso sventola al moletto, sempre a Pesaro. Da Senigallia un uomo di 60 anni è stato multato perché è trovato insieme a una prostituta, un asquillo. Continua dunque a Senigallia la lotta alla prostituzione, due multe elevate sabato, sabato notte durante i controlli antiprostituzione, a finire nel mirino della Municipale, un sessantenne fermato in via Galilei, al Cernin, dopo aver fatto salire in macchina un asquillo. All'uomo è stata notificata una multa da 400 euro, mentre alla prostituta una da 50 euro come previsto dal regolamento di polizia urbana. Raid e furti, raid di furti e vandali, gli chalet nel mirino, nuovi colpi ai bagni licia 99, siamo sempre a Senigallia e in altri stabilimenti. Gli operatori dicono ci sentiamo abbandonati. Poi c'è un sì, un sì, un matrimonio, matrimonio evidentemente non religioso, laico, però ecco il primo sì sulla spiaggia di Velluto con gli sposi e il classico arco con i fiori. Siamo sul messaggero di Pesaro, adesso sale la febbre per il palio dei Braceri, addobbi strappati in un bar del Corso che aveva voluto esporre i colori di Pantano, intanto non si placano le polemiche, tra bandierine vietate in centro e i vandalismi. A centro pagina salvataggio a raffiche in mare, l'abbiamo appena visto. Poi Mema, Mema non era presente quando è stato ucciso Ismaele, parla all'avvocato Di Mario, il complice, non ha mai detto a Igli di ammazzarlo. C'è un'intervista, adesso ovviamente questa è una strategia che poi fa ridere, si cerca di parlare adesso con i giornalisti per spiegare un po' come stanno le cose, cercando di influenzare, no, la procura no, non si influenza in questo modo, però si tiene alta la guardia in qualche modo, quindi fa gioco comunque, in questi casi fa gioco avere una spalla anche dell'opinione pubblica, fa gioco anche avere la stampa da una parte o dall'altra, comunque nel bene o nel male fa sempre comodo. Ex carcere minorile, i campi sportivi ci sono ma nessuno può usarli, il comune chiede alla proprietà che li ha ultimati da anni di poterli prendere in gestione per renderli fruibili, dicevamo del palio, poi sconti sulle bollette dell'acqua, in pochi lo sanno, però spettano questi sconti a chi ha almeno tre figli, ma bisogna fare richiesta, i 5 Stelle li vorrebbero invece in automatico, cioè in effetti fare richiesta, c'hai gli sconti, se servono falli automatici, se uno sa che ha tre figlie, sopra i tre figli vai in automatico, si agevola la vita delle persone, no, invece no, lo Stato dice se poi quello non si accorge io non gli do i soldi. Me ma non era presente all'omicidio, l'avvocato Levi, difensore del 19enne albanese, accusato di complicità nell'omicidio del giovane Ismaele Lulli, il mio assistito smentisce Igli, ma non ha mai detto se lo vuoi ammazzare fallo e dopo il fatto era confuso e impaurito. Tensioni, giovani e controlli, vertice oggi a Sant'Angelo in Vado, convocato per questa mattina e poi sotto, chiudiamo con questa notizia da Fano, i commercianti in corteo contro la Giunta. Gli operatori commerciali torneranno a sfilare contro le scelte dell'amministrazione comunale guidata da Seri, lo fecero a tempo della Giunta a Guzzi per bloccare i nuovi spazi di vendita all'ex zuccherificio, dunque il raduno è confermato. Oggi pomeriggio alle 15 nella zona di Porta Giulia, dovrebbe essere vicino al Pinobar. Porta Giulia davanti al Pinobar. È tutto, grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata, vi ricordo che stasera alle 20 e 30 il nostro telegiornale Occhio alla Notizia e per tutti gli aggiornamenti vi ricordo invece il nostro sito internet, il portale occhioalanotizia.it. Buona giornata a tutti. Grazie. Grazie a tutti.